Allora Ile, prima partita vinta da quando sei tornato in campo. Prima partita vinta da quando sei tornato in campo. Prima partita vinta da quando sei tornato a dottoressa e intanto complimenti per le soddisfazioni fuori dal campo ma questa partita l'ha iniziata e l'ha conclusa in una maniera eccellente, fatto 14 punti e trascinato la squadra in un momento veramente complicato. Primo quarto abbiamo avuto grandi difficoltà ma grazie a te siamo rimasti incollati a Sassari e alla fine con l'ultimo tiro ci è andata bene. Allora innanzitutto grazie per i complimenti sono dottoressa e sì sono molto contenta perché la prima partita che abbiamo vinto da quando io sono rientrata in campo e sono contenta di aver aiutato la squadra nel primo tempo perché lì ho ancora il fiato e le energie giuste per riuscire anche a essere presente a livello di punti. La bellezza di questa squadra è che non c'è un solo punto di riferimento quindi sapevo che comunque qualcun altro avrebbe tirato fuori qualcosa da Lea che ha fatto mi pare 20 punti a Tai che ha avuto difficoltà tutta la partita e poi ha segnato l'ultimo canestro. Quindi niente era una partita difficile e erano due punti importanti da portarci a casa. Loro non avevano una loro grande giocatrice che di solito fa appunto almeno 25-30 punti e quindi era sicuramente un'opportunità da sfruttare l'abbiamo sfruttata al meglio e quindi speriamo anche che le prossime partite vadano in questo senso o almeno che ci mettiamo la stessa energia di oggi.